Montroni Va bene Ci siamo, sembra di sì No Caso Binetti Hanno votato tutti Sanga Carella Bene, dichiaro chiusa la votazione 110 favorevoli 203 contrari La Camera respinge Passiamo al voto finale Facoltà di intervenire per dichiarazione di voto Il deputato Sanni Candro per due minuti, prego Ringrazio Presidente per avermi consentito questa precedenza Devo soltanto annunciare che per quanto stamattina abbiamo illustrato Credo che sia sufficiente rifarmi a quanto detto Per cui annuncio il voto favorevole dell'intero gruppo La ringrazio La parola al collega Sanni Candro Ho detto Rettificato Il voto contrario dell'intero gruppo Grazie, grazie Collega Brignani, prego Presidente Con il suo consenso Dichiaro il voto favorevole di ATA E consegno il mio intervento Grazie Sì, autorizzato Collega Maestri, prego Grazie, signor Presidente Nonostante La disattenzione generale dell'Aula Colleghi, il tono della voce, per favore Un intervento per dichiarazione di voto Annuncio già il voto contrario